Io potremmo fare a favore a questa, perché questa è una tecnica che attesta una possibilità di questa amministrazione che parte dalla Commissione di Precretizia, dove il commissario di Precretizio che sta in scoprenza è ridotto piuttosto che c'è realmente, questa amministrazione sta continuando, perché non è un ruolo, non è una pubblicità, è una possibilità io voto a favore perché ci vedo questa cosa, stiamo andando con le eminazioni, senza fare solo, ma perché una comunità viene alle qualità che per questo bubore di Casone Ambiente ci ha raggiato per tantissimi anni, creati dalle precedenti amministrazioni, con dei vostri soci, sia come canone, che noi abbiamo venuto non nella tasse, abbiamo venuto il canone e ci dovremmo mandare, perché è una cosa che fa adesso, vi vedo che questa è una tecnica che nasce dalla Commissione di Precretizia, dalla Ricci, guarda i grandi costi, i defitti di questo bubore di Casone Ambiente, in Città di Giorani, sul bilancio famigliato e della città di Casone, quindi io dico, non dico che dobbiamo gioire, ma dobbiamo proprio cosa reale, questo è un'altra cosa importante, questa amministrazione, è una che fa faccio un'ora, perché è una continuità della legalità che non c'è stata per tanti anni, da che città di costi dalla professore politizia, di quei fitti, che ci costruivano 400 mila da l'anno, oggi non siamo su quella tendenza là, non vedo niente di negativo, niente di costo, ma soprattutto questa amministrazione ha ridotto il canone dei rifiuti gastronomini, di 1.700.000 euro, di 2.500.000 euro, non vedo niente di assunto, quindi noi voteremo a favore, perché mi vedo, siamo andando avanti anche a piccoli passi, in un momento critico, perché i comuni stanno aumentando, perché c'era crisi, noi abbiamo cercato di aumentare la tassa, e si ha tirato la parte della questione, dove era crisi, perché qualcuno voleva aumentare la tassa ai cittadini, noi non abbiamo aumentato, quelli 2 euro sono 2 euro che aumentano su una lista, sono 2 euro che aumentano in un anno, sarebbero 0,1 centesimo, non abbiamo aumentato perfettamente, noi abbiamo ridotto legalmente dalla professore politizia il canone a Castoria a Mietti, dopo 15 anni, questo popore nato per portare soldi per le casse del nostro comune, c'è solo tante danni, danni esosi, quindi noi dovremmo a favore. Grazie, signor Presidente, a loro.